Radio 105 TV è il canale televisivo di Radio 105, il meglio della Contemporary Music. E finalmente arriva anche il programma più irriverente della nostra famiglia, lo Zodi 105, con una stagione di cartoni animati al limite della decenza, perché loro non fanno mai le cose normali. Ascoltaci e guardaci sul canale 157 del Digitale Terrestre. Radio 105. Proud to be different. Grazie.